Lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al contrabbando di carburante e tabacco, ma anche spending review in tutti i settori della pubblica amministrazione, prosecuzione della riforma del sistema pensionistico e il sostegno alle famiglie che non riescono a ripagare i prestiti. C'è davvero di tutto nella lettera contenente le misure promesse da Atene, tra gli sforzi spiccano quelli in campo fiscale. Oltre alla lotta all'evasione, verrà rivisto il regime dell'IVA per migliorare il gettito e verrà messo un freno alle deroghe e alle esenzioni non giustificate, sul versante sanitario il governo di Alexis Tsipras si impegna a controllare la spesa, ma anche a migliorare l'offerta e la qualità dei servizi medici. Per quanto riguarda il capitolo emergenza umanitaria, ovvero la lotta alla povertà, le misure comprendono i voucher alimentari e la modernizzazione dell'assistenza sociale e ancora impegno a non fermare i processi di privatizzazione già partiti, pagamento dei arretrati della pubblica amministrazione, catasto, aste per le frequenze, la lista è lunga.